Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Monica Pelliccia. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana, infipili per lavori di miglioramento sul viadotto del turbone, possibili disagi tra Montelopo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in entrambe le direzioni, passiamo alla 1 in entrambe le direzioni, possibili disagi per neve prevista tra la variante di Valico e Sasso Marconi. Prima di salutarci, ricordiamo che in conseguenza dell'emergenza sanitaria coronavirus nell'ottica di porre un limite ai contagi, raccomandiamo a tutte le persone di limitare ove possibile gli spostamenti ai casi strettamente necessari secondo le indicazioni del nuovo decreto del Presidente del Consiglio. Muoversi in Toscana Info è realizzato in collaborazione con Regioni Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!